È stata data stamattina nel corso di una conferenza stampa una notizia molto importante per la città di Fermo, quella che riguarda la riqualificazione della Casina delle Rose, l'hotel che si trova sul Girfalco e che da tanti anni cerca una soluzione. Si è provato a venderlo, ma il bando è andato più volte deserto. Questa volta, grazie al decreto rilancio post-emergenza Covid, c'è la possibilità di una rinegoziazione dei mutui che permetterà al Comune di ristrutturare in proprio e di dare in gestione l'edificio. Una spinta forte a questa soluzione è stata data dall'Università Politecnica delle Macche, che intende mettere a fermo un nuovo corso di laurea. Infatti la struttura sarà appunto un misto, ospiterà i turisti nei mesi estivi, ma sarà anche uno studentato di livello per tutto il resto dell'anno. Il decreto ci ha permesso da una parte di saltare la rata dei mutui di quest'anno, dall'altra parte invece ha consentito nel pluriennale, cioè a partire dal prossimo anno, di avere un piccolo risparmio sulle rate ad investimento dei mutui già accesi. Quindi si apre una finestrella che o potrebbe essere sfruttata per tante piccole opere oppure tramite un mutuo che vedesse una rata coincidente con una parte, nemmeno con tutto questo risparmio annuale, con un'opera importante per la città che potrebbe essere appunto quella del recupero della Casina delle Rose, visto che al momento con le tentative di vendita non c'è stata una possibilità di un imprenditore che andasse a rilevare e far ripartire la struttura. Il momento sarà ancora peggiore, visto le difficoltà che porta il Covid, soprattutto anche sulla recettività di questo tipo. E poi c'è il fondamentale fatto che si sta ragionando anche la settimana scorsa con la Politecnica e le Marche per aggiungere un corso di laurea ulteriore, qui a Fermo, e quindi questo potrebbe portare una sostenibilità assoluta di una gestione mista che possa vedere sia studentato, poi per i periodi di alta stagione, soprattutto luglio-agosto, la recettività turistica classica, tra l'altro con magari un canone di concessione che andrebbe a impattare quota parte sul mutuo acquisito.